Allora ragazzi siamo arrivati qui alla caverna magica dove c'è un artista che a quanto pare fa dipinti e altre cose artistiche basate sulla magia Sembra molto strano il tipo però sono curioso, vediamo che succede A presto A presto A quanto pare questo signore ha pure un sito internet Ci ha dato il bigliettino per andare a trovare il sito per comprare i quadri e soprattutto visto che questo posto è molto piccolo ci sono un sacco di quadri tipo questi che stanno accantonati qui uno sull'altro E a quanto pare sul sito internet si possono trovare tutti per essere acquistati Il signore, l'artista, ci ha detto di suonare questa campanella quando dobbiamo andare via così vado a aprirci la porta Ma non sta bene tra nessuno 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 Ma non sta bene tra nessuno